Buonasera Antico Tira al Volo, accanto a me Hardian Fulani. Hardian Fulani. Buonasera. Dall'Albania da Tirana. Lei è un... Io sono un bancario, ho fatto solo banca tutta mia vita, possiamo dire anche. E sono stato qua, sono stato onorato di avere l'onoris causa dell'università. Università di Sancti Cirilli, dell'Order Bizantino di Santo Sepolto. Sì. È contento? E non me l'avevo aspettato perché era una laura molto bella della gente che aveva veramente contribuito a una cosa, una causa vuol dire, per lo sviluppo in generale ma anche per il bene della umanità. gente che aveva inventato qualcosa o che non aveva inventato qualcosa però aveva dato lo spirito dell'amicizia, del spirito del lavoro e portare la prosperità per la gente. Faccio una domanda riguardo la situazione economica attuale in Italia. Come la vede? Vedi, noi, io vedo l'Italia da quando ero 6-7 anni, per un certo periodo è anche proibito così. Mi mandavamo delle antenne a prendere l'Italia, così lo vedo, sono cresciuto con oggi al Parlamento e mi ricordano bene tutti i politici italiani, economisti, bancari. L'Italia c'è un fonte tremenda della capacità intellettuale nel mondo, non voglio fare i nomi però i più grandi economisti in tutte le istituzioni internazionali sono italiane. Ho imparato tanto dalle personalità italiane, dai economisti, dai bancari, dai scienziati italiani in tutta mia vita che molte volte è stata collegata con l'Italia, anche per il lavoro, ho fatto per 6-7 anni direttore generale della Banca Mista Italo-Albanese, Banca di Roma, i BRD e lo Stato Albanese. L'Italia c'è una classe imprenditrice fantastica. Penso che, come ha detto Monet, la moneta è l'euro e l'emu all'epoca, è in una forza, proprio come l'acciaio sta lavorando in questo avere la forza vera. Così anche l'Italia sta andando da un'economia basata di una moneta, anche se sono più di 10 anni oramai, da lira all'euro, che è una moneta che sta proprio provando se stessa, con tutti i problemi dietro dell'Europa, con tutti i problemi mondiali, della globalizzazione, dell'inequality, del populismo, di Brexit, di Talsic e di altre cose. Però io credo nella gente, io credo che l'Italia ha le potenzialità enormi a non discutere per un anno per il budget con l'Europa.